Bene, oggi vedete siamo qui scherzosamente con questo scheletro, ma per far capire com'è importante e com'è fondamentale dare volumi e dare tessuto a un volto. Cosa c'è che invecchia di più che ridurre i tessuti, ridurre il sottocutaneo? Oggi grazie alla terapia rigenerativa noi con le cellule del nostro paziente possiamo ridonare i tessuti al viso, cioè ridare volume, ridare tono alla pelle, migliorare l'aspetto della pelle. Oggi con la tecnica Sepp Filler a livello ambulatoriale noi possiamo prendere un pochino di cellule del nostro paziente e andarle ad utilizzare come cellule rigeneratrici per la regione del viso, per la zona del collo, del decoltè, delle mani, in tutte le zone dove l'invecchiamento dei tessuti ha determinato appunto una riduzione del tessuto, una riduzione del sottocutaneo. Quindi oggi la terapia autologa rigenerativa grazie alla tecnica Sepp Filler è possibile eseguirla a livello ambulatoriale in circa 30 minuti.